Come è un gioco di ruolo dedicato ai giovani dai 14 ai 25 anni? La cosa molto importante in queste 24 ore è proprio per la sua lunghezza e per tutte le cose che vengono coinvolte il livello di empatia che c'è, quindi quello che crediamo molto importante del gioco di ruolo è il fatto che provandolo sulla loro pelle, provandolo per 24 ore con tutto questo coinvolgimento di empatia l'impatto sia molto più forte, il messaggio arrivi molto più velocemente. La mia esperienza nello Youth on the Run è stata particolare, all'inizio l'ho considerato proprio come un gioco e probabilmente ho fatto un po' di fatica a integrarmi col personaggio. Di fatto subito dopo un paio d'ore di gioco sono entrato nella mia parte e ho vissuto queste 24 ore proprio come poteva viverle un migrante. Nel mio caso ero la moglie del capo della famiglia che cercava di tenere unita la famiglia nel viaggio che faceva dalla Somalia all'Italia, cercando appunto di richiedere asilo perché eravamo perseguitati nel nostro territorio. E' stata un'ottima esperienza perché di fatto permette di capire davvero quali sono i sentimenti, quali sono le sensazioni che un migrante vive durante il suo viaggio e permette quindi di essere consapevoli, di aumentare la consapevolezza di quelle che possono essere le criticità che queste persone possono incontrare. E' una grande esperienza che di fatto consiglio a tutti quanti. Un'altra cosa molto importante su cui noi abbiamo basato questo gioco di ruolo è il fatto che al di là che sia uno strumento utile sul territorio, quindi risponda a un'analisi dei bisogni che si è verificata, cioè sensibilizzare i giovani alla tematica delle migrazioni, c'è anche il fatto che è assolutamente in linea con quella che è la strategia dei giovani della Croce Rossa italiana, venuta fuori dalla dichiarazione della seconda assemblea nazionale dei pionieri, sicuramente in linea con il terzo obiettivo strategico della strategia 2020 della federazione, come con il secondo obiettivo strategico della Croce Rossa italiana, la politica sulle migrazioni e moltissimi altri documenti. Quindi sicuramente è tutto all'interno di un contesto molto più ampio di quello che è il movimento e Croce Rossa italiana stessa.